muori maledetto talebano muori che belli sti giochi che con la scusa del terrorismo uno può sfogare tutto il suo dispresso verso esseri di pelle rassa a religione e cultura diverse bellissimo pronto son balasso il presidente dimissionario ma come ma non avevate fatto marini bocciato ma e prodi bocciato anche lui ma non siete capaci di votarvi neanche i vostri però va bene e allora cosa volete da me adesso avete chiamato da lei ma cosa devo fare presidente un'altra volta ma no ma ma no ma ma non posso dovrei disdire che ho già prenotato un anno di corso d'inglese alla harley davison school devo disdire l'abbonamento grandi dormite a teatro ciò quando uno è in pensione è in pensione ostia va bene ma su 60 milioni di italiani non siete riusciti trovarne neanche a uno va bene va bene basta 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 niente discussioni niente discussioni venio però cerimonie veloci fermo il governo subito perché io tra l'altro devo tornare a portare la cicletta al quirinale che l'avevo già portata via e no è che il doblo c'è la mia moglie e io son col cubo e il cubo si chiama così proprio perché tu ci metti dentro un cubo di rubic non che sta più un caso comunque vabbè faccio una doccia e arrivo un attimo signore che quattro insemenite senatori deputati buongiorno che caso applaudi ho detto solo buongiorno ma vara te applaudono io potrei imbastirvi un bel discorsetto dirvi che adesso mandiamo a rogo un qualche giovane capro espiatorio per fargli fare un governo inutile oppure andiamo a ripescare un ministro del consiglio zombie da dall'oltretomba delle nebbie della repubblica che così si fa una legge elettorale e dopo finalmente capirete chi caso ha vinto queste elezioni così chi governa governa chi fa opposizione fa opposizione e potrete tornare a fare le leggi che avete fatto finora le quali hanno riempito il paese di cemento corruzione e inquinamento che si bravi mona applaudite applaudite uno vi manda a cagare e voi applaudite potrei anche dirvi che ci sono delle urgenze che bisogna sbrigarsi perché bisogna tranquillizzare i mercati questa parola d'ordine no però onestamente a ben guardare più voi non fate un cazzo più cala lo spread ara che c'è da pensarci perché io ho sempre sospettato che sta roba del spread fosse un po' navaccata però alla fin fine ma lo sai che quasi quasi se continuate con sta politica di fancazzismo va a finire che paghiamo il debito interamente qua tanto due stipendi li abbiamo già messi da parte fra un po' ci arriva anche il terzo sono 60 mila euro sputtaci in faccia te vala vala che siamo un bel branco de paraculi insomma potrei farvi un sacco di bei discorsetti ma purtroppo tra poco comincia lost e quindi vi dico solo sta roba se non siamo riusciti a combinare niente fino adesso ma chi ci dice che all'improvviso diventiamo dei sveglioni che risolviamo i problemi del paese perciò non dico altro perché ogni roba che mi viene da dirvi è un'offesa e quindi andate a fare in culo e quindi continuate con questo gioco ributtante e contagioso come la lebra e il tifo continuate a pugnalarvi alle spalle a impallinarvi le chiappe a vicenda e in questo modo sarete utili alla nazione come le chiavi chiuse dentro la macchina a un'ultima roba domani mattina fino alle 11 non ci sono per nessuno va bene e volevo anche dirvi che in mezzo qua c'è anche delle troie buon lavoro 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 buon lavoro